12 febbraio 1809 nasce a Shrewsbury in Galles, Charles Robert Darwin. Nel 1831 inizia una crociera intorno al mondo a bordo del brigantino Beagle, accumulando una notevole quantità di dati empirici su animali e vegetali, nel 1871 pubblica The Descent of Man, l'opera nella quale conferma e sostiene l'ipotesi che la specie umana discenda dalla specie animale. Muore il 19 aprile 1882.